Sì, il segnale è appunto. 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 Sì, possibilmente è così come dite voi. Perché praticamente c'è la preoccupazione, ma è tranquillamente, sponi tranquillamente. Però loro sono lì nelle coordinate, si trovano a 130 km da me, però loro hanno verticali, però ho provato niente. Però sui 40 e gli 80 vado ad addio. Però sono molto soddisfatto, guarda, di questa antenna perché ho fatto un'antenna vicemente a Roma, nelle mie coordinate. E mi sono sempre trovato bene con queste antenne, infatti. Quindi, calcola, e niente, mo' in settimana scendo vado a comprarla una Grand Plane. Vado un attimino, ce la metto sopra, sul mio cassotto, almeno così vedo un attimino se riesco ad ascoltare pure l'arte frequenziale. Va bene comunque, Carlo e l'altro amici sotto, non mi ricordo il nome perché specialmente non mi sono scritto il vostro nominativo. Comunque, se voi andate sul mio sito, della One Whisky Delta One Three Six, mettete i miei contatti Skype e vendete i miei contatti, con i miei contatti e mail. Con il mio nome, il nome e il cognome, vuole darmi l'amicizia sul Facebook, non c'è problema. Ok, da comunque qui, la stazione Malterino, qua a Kikmotula, nella zona 6 dell'Abruzzo, mi ha fatto molto piacere fare due parlate con voi, carissimi amici. E vi saluto perché la mia signora vi sta chiamando per andare a fare la cena. Un abbraccio circolare a tutti e tre, carissimi. Mi ha fatto molto molto piacere. A te, Carlo. K. Ok, ok. Adesso ho sceso un po' il segnale. Eh, ci sta abbassando. Riva l'aria, riva l'aria. Bene, ti auguro allora una buona serata. Dopo magari se arrivo passo sul sito a vedere. Così ti lascio i saluti. L'accento appunto, ho capito che è roba, allora per quello, dicevo. Un trentino. Buona vacanza, Petro, per voi, per voi, per voi, per voi, per voi, per voi. Buona vacanza e buona radio perché sei in un ottimo posto. Basta, no, ti lo vedi, in una parte, a te lo vedi. Bene, saluto io, a tutti io, a tutti io, a tutti i barchi, ora ti saluto, a tutti i barchi, ora guardare in C3, a tutti i barchi, ora, operatore, in C4, in un cavaliato come me, Un pochino, insomma, nonostante sia più alto, ma insomma, questo è un astiziano, ecco. Questo sta uscendo circa un po' più alto, no? Ma io mi trovo poca mille metri, ecco. E poi, sai proprio io, qui ci abito, ecco. E diciamo che il piso c'è in questo locale qua, sul canale 40, nel Lima, ecco, diciamo 5-6.